Ciao a tutti, vi mostro ora come si sblocca l'auto rara per il trofeo in Watch Dogs 2 Allora vi mostro ora sulla mappa dove possiamo trovare l'auto rara in Watch Dogs per sbloccare il trofeo Allora sarebbe questa parte della mappa Allora la troverete qui dentro, in questo punto qui, questa parte grigio chiaro Ecco qui la troverete e ora vi mostro come prenderla Allora portiamo fuori il muletto Intelligentissimo Allora Poi cerchiamo di... no 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 toglietevi cazzo Che idioti Muletto col craxo E poi passiamo da qua sopra Riproviamoci col tipo, col personaggio Facciamo fare il parkour Lo facciamo comodare Lo facciamo comodare Lo facciamo comodare Allora signate a scavalcare Opla Opla Ok Accaviamo questo Dopo Ci facciamo il selfie Questo è un veicolo raro Ci facciamo una bella foto E Sblocchiamo un veicolo memorabile Perché non parte? Ok Ok Grazie a tutti per aver visto questo video E ci vediamo al prossimo video Ciao bella a tutti